Il primo ministro britannico di origine indiana è arrivato a Nuova Deli con la moglie Narajana Murti, figlia del miliardario indiano. La presenza di questa coppia si affianca a quella di altri leader già presenti nel paese come il primo ministro italiano Giorgio Meloni. Sul tavolo le questioni economiche, le minacce di carestia legate alla guerra in Ucraina, temi cruciali anche per i delegati dell'Unione Europea. Intanto la diplomazia indiana si muove dietro le quinte alla ricerca del consenso per un comunicato congiunto nel mezzo alle posizioni di Russia e Cina che hanno già respinto alcune bozze.